Assessore Calabrese, con la fine dell'estate riprendono anche i lavori dei cantieri, quali sono le prossime scadenze? Le prossime scadenze sono per fine settembre 2013, cioè di quest'anno, dovremo fare la seconda apertura della stazione Toledo su via Monte Calvario, per dicembre invece dovrebbe essere terminati i lavori della stazione Garibaldi della linea 1 della metropolitana. In quel momento, terminati i lavori, è possibile smontare a piazza Garibaldi il cantiere della stazione che è su via Lucci, mentre rimarranno purtroppo il cantiere su Corso Novara, perché quel cantiere di Corso Novara è a servizio del progetto portato avanti dalle grandi prentestazioni, quindi ferrovie per lo Stato, per la realizzazione di un parcheggio e poi ci sarà ancora il problema della sistemazione della piazza. Sempre per quello che riguarda la metropolitana, mi auguro che nel 2014 si possa avanti chiudere la stazione di piazza per il municipio. La stazione di piazza per il municipio, chiusa la stazione di piazza per il municipio, non la piazza, perché la piazza, proprio gli interventi sulla piazza sono previsti per il 2015. I importanti interventi sono previsti anche per il miglioramento delle strade cittadine, ci spiega allora di che cosa si tratta? Abbiamo circa un milione di euro che adesso spenderemo per alcuni interventi di manutenzione ordinaria, quindi non è che ci dobbiamo aspettare il rifacimento di interi tratti stradali, ma quindi manutenzione di alcune prenteste strade lì dove sono state evidenziate criticità. Questo milione di euro verrà speso in parte nel quartiere di Fuori Grotta, via Pomeo, per esempio Soccavo, Corso per esempio Secondigliano, via Bernardo Cavallino e Castellino, quindi il collegamento con la zona per esempio ospedaliera. Poi ci sta via Palermo, ci sta tutta l'aria intorno per esempio al cimitero. Stiamo con il sindaco preparando una delibera che consentirà al Comune di anticipare dei soldi per partire al più presto possibile su via Manzoni e Santa Maria al Cubito. Quando dico più presto possibile intendo per settembre, massimo ento ottobre, di lavorare su queste strade. Per di più stiamo molto concentrati, stiamo molto sforzando per aprire via Coroglio, che è una non soprenente questione. Sono sufficientemente fiducioso che anche là per settembre, fine settembre, ci possa essere l'apertura di via Coroglio. Grazie a tutti.